La strada del futuro è un progetto meraviglioso essenzialmente perché è un progetto di tipo visionario. È un progetto che è basato sull'idea che colorare la città riesce a spingere le persone a usarla in modo più divertente e coinvolgente e spinge le persone verso la mobilità sostenibile, in particolare a usare le biciclette in zone della città che le persone possono sentire come proprie invece che come antagoniste. E questo è il motivo di fondo per cui stiamo spingendo le istituzioni e i ragazzi a colorare le piste ciclabili delle città in maniera tale da rendere le nostre città più attraenti e colorate. Noi abbiamo un interesse comune a rendere finalmente i nostri spostamenti e la mobilità qualcosa che sia nello stesso tempo dolce, cioè non stressante e però anche sostenibile dal punto di vista ambientale, che non rovini il nostro ambiente fino a rovinarci la vita con le pandemie e il cambio climatico e tutti i guai in cui ci troviamo. Quindi non solo è possibile ma è addirittura necessario. Grazie. 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 Grazie.